Bisogna allargare... Presentato il consiglio direttivo dell'Avis di Pesaro Urbino per il quadriegno 2023-2027. Confermato il presidente Erman Graziano, 47enne docente dell'Università di Bologna, che ha introdotto la squadra del suo secondo mandato. Siamo a questo secondo mandato, una bella squadra che in parte si rinnova, in parte si conferma. È importante la mission della nostra associazione che vede implementarsi su quelli che sono degli obiettivi che già nel precedente mandato volevamo portare avanti con grande convinzione e che, visti i risultati raggiunti, proprio anche alla luce della pandemia, alla luce di quella che è la riforma del terzo settore, che ci ha visto sicuramente molto impegnati a ogni livello, a livello anche di quelli che sono gli aspetti relativi a tutti i cambiamenti che la privacy ci ha imposto in quelle che sono tutte le attività, in particolare lo svolgimento procedurale, abbiamo ottenuto quello che è una forte partecipazione trasversale, quindi quella che è un'intera associatività che ha visto costruire progetti d'Avis provinciale lungo tutte le differenti associazioni, con eventi provinciali, con diffusione della cultura del volontariato, della cultura del dono, come elemento fondante e cardine per quelle che sono tutte le attività associative. Chiaramente è centrale il rapporto con le altre associazioni, perché insieme siamo più forti. Abbiamo voluto quello che sono dei responsabili d'aria, in particolare per lo sport, in questo caso c'è Cristiano Livi e Andrea Campana, che si occuperanno rispettivamente delle due realtà, delle due differenti vallate, Fausto Lucchini per quanto riguarda la scuola, una persona molto competente che lavora nella scuola praticamente da sempre, Luca Rovetta per la comunicazione, anche lui insomma persona che si occupa di comunicazione già in Avis Urbino e Maurizio Vizzini che prenderà l'inedita delega che in passato non è mai stata fatta ma che alla luce delle novità con cui l'associazione è impegnata con le riforme che vi ho appena citato, sarà quello che riguarda gli adempimenti associativi. Quindi per essere un Avis è sempre più di servizio per tutte le Avis comunali. La conferenza stampa odierna presso la provincia di Pesaro Urbino è stata un'occasione importante per tracciare un bilancio sulle sacche di sangue raccolte nell'anno 2022. 5.478 sacche al centro trasfusionale di Urbino che in realtà ha avuto un salto assolutamente importante dove c'è anche una maggiore difficoltà nel raccogliere il sangue perché chiaramente devono andare sul territorio con la carenza dei medici, chiaramente hanno raggiunto diciamo un doppio o triplo risultato. Pesaro invece ha avuto una flessione con 7.063 sacche mentre Fano ha raggiunto 8.174 donazioni. Quindi segno anche insomma delle tante attività che vengono svolte.